Arrivano dai social media le prime immagini della strada che è stata realizzata sulla spiaggia di Lido da Asa, il gestore del servizio idrico per l'Isola d'Elba nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'installatore di Mola. In pratica si tratta di un tappeto di materiale sintetico implementato sulla spiaggia per permettere il transito in sicurezza dei mezzi pesanti che dovranno realizzare opere e accessori all'installatore. La richiesta di autorizzazione presentata da Asa faceva riferimento al periodo da ottobre 2022 a marzo 2023. Questa strada era stata oggetto nello scorso mese di novembre di un provvedimento del comune di Capoliveri che non aveva ritenuta valida la comunicazione di inizio lavori presentata da Asa. La loro sospensione però era stata inficiata dal Tribunale amministrativo regionale. I lavori di pose in opera del tappeto stradale sono iniziati quindi mercoledì 4 gennaio scatenando come prevedibile le proteste e i timori dei cittadini per un'opera che si teme resterà a lungo sul Lido nonostante l'autorizzazione sia solo temporanea. C'è chi dubita che la strada possa resistere alle mareggiate previste fra l'altro proprio questo fine settimana.